I giovanotti dovevano arrivare isolatamente, dalla destra e dalla sinistra, dalla parte della città e dai villaggi di montagna, dove la vita li aveva dispersi alla fine degli studi. Ma sarebbero venuti? Al di sotto dell'orto di Don Benedetto, in quell'ora del giorno, le poche case del villaggio della Rocca sembravano disabitate. In mezzo alle povere case, appiccicata l'una contro l'altra, era una piazzetta angusta, la strigata di ciottoli ed erba. In fondo alla piazzetta, il porticato basso di un'antica chiesa e sul porticato un grande rosone trafore. Le case, le vie, la piazzetta parevano abbandonate. Attraversò la piazzetta un mendicante incenso e tirò via, senza fermarsi. Si infacciò sulla soglia di una casa una bambina e stette a guardare.